Bentornati oggi qui con me c'è Dariush Golgiani di Google Cloud entriamo subito nel vivo innanzitutto benvenuto Dariush sentiamo sempre più parlare di sostenibilità sicurezza intelligenza artificiale qual è il punto di vista di una big come Google Cloud in tal senso? Allora ti ringrazio per la domanda direi anche spontanea comunque voglio dire Google Cloud come molte delle aziende big tech nate nella West Coast americana ha una storia di lungo corso su tutti questi temi anche alcuni di questi tipo le AI, le AI generativa emergano all'attenzione della più bassa platea solo solamente adesso sulle AI dicevo una storia lunga che nasce nel 2015 la cronaca parla di quella gara fra il nostro Alpha e il campione di Go che abbiamo tutti quanti imparato essere uno su un gioco di origine cinese che ha molte più varianti degli degli scacchi e che obnubilava il famoso scontro con Big Blue e il campione di scacchi dell'epoca abbiamo un'offerta strutturata che basa su responsabilità, privacy, sicurezza, fattualità del dato e possibilità di scelta perché poi le AI vuol dire tante cose non è solo AI generativa e hanno dei costi diversi tra l'altro mi viene bene la domanda perché ho scoperto che sulla parte di sostenibilità ripeto sensibilità tipica di aziende della West Coast, tra l'altro il costo di energia elettrica è il costo più alto per Google quindi come dire significato profondo e costi si avvicinano qui Google è channel neutral credo anche qui dal 2005, dal 2017 se non era acquistiamo energia rinnovabile pari al nostro consumo e ci siamo già impegnati entro il 2030 a diventare totalmente carbon free ho scoperto che le GPU, questi processori particolari, acceleratori per quanto riguarda il training di questi algoritmi vengono alimentati con energia riciclabile la sicurezza e chiudo per farti un commento anche qua da sempre diciamo nelle priorità di Google tra l'altro ripeto oggi assistiamo anche qui a una rivoluzione comerlicana con nuovi attori diciamo l'acheraggio perde quel connotato epico che aveva una volta e diventa più con un obiettivo di profitti con nuovi attori istituzionali che entrano qua dentro fortunatamente a rischio di sembrare arrogante Google già oggi protegge miliardi di persone sul web tramite gli strumenti che offre vi lascio con un ultimo dato è stato annunciato credo qualche mese fa abbiamo sventato quello che sembra essere il più grande attacco di DOS di livello 7 registrato ad oggi per uno dei nostri clienti per il più magari non vuol dire nulla ma sono sicuro che tutti i gig all'ascolto apprezzeranno il dato ti ringrazio ne sono sicura anche io grazie a te Darius